Oh, State of JS 2023, eccoci qua, State of JS, dov'è il browser? Eccolo, State of JavaScript, sapete cos'è il State of JS? C'è un about qui, about. Lo State of JavaScript è un sondagione, un developer survey, condotto tra il 22 novembre e il 12 dicembre 2023, ha avuto 23.540 risposte, che poi appunto il 20 giugno, qualche giorno fa, sono state pubblicate e adesso vedremo un po' di graficozzi, di cose, non l'ho ancora visto, quindi reaction totale allo State of JS 2023, vedo un po'. Praticamente cosa fanno in questo sondaggio? Vanno un po' a sondare quali sono i trend principali, quali sono le scelte che riguardano JavaScript, quindi i framework più usati, i linguaggi, i pattern, che cazzo ne so. Sono le varie cose, insomma, che riguardano JavaScript, quindi fa un po' una panoramica delle tendenze del mondo JavaScript più leggente, insomma, nell'ultimo anno, raccolta proprio alla fine del 2023. È sempre abbastanza interessante, anche se di solito è un po' biased, perché si concentrano un po' negli Stati Uniti queste risposte. Anzi, guarda, ci sono anche le demografiche, eccole qua. Demographics, ecco, vedete che, insomma, la gran parte delle risposte in percentuale arriva dagli Stati Uniti, sono 2.700, insomma, il 16% del totale delle risposte arriva dagli Stati Uniti, poi il 7% della Francia, il 7% della Germania, che quindi comunque pareggiano più o meno insieme, poi dopo corre... Insomma, no, in realtà anche l'Europa fa una buona parte, insomma, fa di più in totale. Questo per quanto riguarda, appunto, la provenienza geografica come linguaggio, beh, l'inglese è il principale. Vediamo invece il gender, porca miseria, 94% di genere maschile nelle risposte. 94%? Beh, mi aspettavo... poi è front-ended, mi aspettavo un pochino più equilibrata la situazione, invece, boom! 94% a 4% solo di donne. Poi non binary è l'1%, non dichiarato lo 0,4%, ma insomma, non so, una disparità, uno sbilanciamento di genere abbastanza indicativo. Vabbè, insomma, c'è un po' di sbilanciamento... non c'è sbilanciamento... forse non c'è troppo sbilanciamento geografico, ma c'è sbilanciamento di genere, decisamente sbilanciamento di genere, e sbilanciamento anche un po' etnico, perché qua vedete che i maschi bianchi, quindi, la fanno da padrone, insomma. Vabbè, chiudo, chiudo con la denomografica, andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere un po' che cosa si va a collezionare tra queste domande. Insomma, c'erano varie domande in questo sondaggio, quindi poi abbiamo collezionato tutte le risposte e sono rappresentate in questi grafici. Quale di queste syntax feature avete usato? Cioè, il nullish coalition... sì, ma che domande sono? Domande un po'... domande strane. Vince nullish coalition, che è stato usato dal 80% della gente, poi dynamic import, 62%, private fields, vabbè. Se vi interessa sapere quali sono le fitosyntatiche più usate, il nullish coalition, il dynamic import e private fields. Poi, le string features, le feature più usate sulle string, sono replace all e match all. Vabbè. Poi, le feature sugli array, find last, to sort... ma chi se ne frega di queste esposte? Quali tra queste async features avete usato? Top level await, cioè l'await al primo... non dentro una funzione, ma al primo livello. Await, molto usato, 74% della gente ha usato top level await. Bene, fatene ciò che volete di questo dato. Poi c'è promise.any e promise.allsettled, sono indicazioni importanti. Le browser API, quali tra queste browser API avete usato? Websocket, urca, 61% della gente usa Websocket, non me l'aspettavo. Così tante persone usano Websocket? Bene, carino, interessante. Poi, PWA, Progressive Web App, 48%, molta gente usa le PWA. Geolocation API, 33%, poi WebGL. WebGL, chissà se in confronto all'anno scorso com'è, non ce l'ho, non c'ho un confronto. Poi in realtà di altre cose ci sarà un confronto, però qua non c'è. Cose interessanti, non c'è... c'è WebAssembly, eccolo qua. WebAssembly, sesto posto, 18%, buono. Wasm, credo in salita. Quali sono i maggiori punti di sofferenza riguardo al linguaggio JavaScript? Lo static typing, vabbè, però c'è TypeScript per questo. C'è proprio TypeScript per questo. Poi ISM, vabbè, i moduli, date, 8%, le date. Beh, le date sono una cosa abbastanza sofferente. Che causa sofferenza? Il supporto a TypeScript è un pain point, perché? No, dovrebbe essere una cosa positiva. Il supporto ai browser, vabbè, i browser, uno ormai ce n'è più... Doveva essere Safari Support, qui. Questo dovrebbe essere sostituito da Safari Support, cioè supportare Safari è una sofferenza. Vabbè, quali sono invece i pain point, quindi il dolore riguardo alle browser API, il supporto ai browser. Bah, Safari, eccolo qua. Safari è al secondo posto. Ma il primo posto non ha senso. Qual è il tuo pain point riguardo alle browser API? Il browser support. Vabbè, che vuol dire. Safari, Safari è il primo posto, giustamente. Oh, andiamo alla ciccia, andiamo alla carne, eh. Le librerie, le librerie più utilizzate. Allora, allora, allora. Sentiment. Positive experience. Allora, l'abbiamo usato. Abbiamo usato Webpack. Ma non si capisce niente da questo grafico, è strano. Allora, abbiamo usato Webpack. Ma non c'è un modo di cambiare grafico? No. Mostramole tutte. Non si può cambiare grafico. Vabbè. Non c'è un grafico attorno. C'è un grafico, vero. Beh, è comodo anche questo. Questo si può leggere. No, voglio qualcosa di... Eh, vabbè. La libreria, libreria più usata. Webpack. Webpack è la libreria più usata. Vabbè, dovete un po' sommare le cose. Allora, la libreria più usata nel mondo JavaScript del 2023 è Webpack. 42% l'ha usato e vorrebbe usarlo ancora. Non so come tu possa usare Webpack e volerlo usare ancora, vuol dire che sei un masochista. Ti vuoi fare male. Ti vuoi fare male se vuoi continuare, pur avendolo usato, quindi sapendo il dolore che ti aspetta, tu lo vuoi riusare, allora ti piace soffrire. Poi, il 48% ha risposto l'ho usato e ho avuto un'esperienza negativa. Beh, ma non mi stupisce. Il 4% ha detto che ne ho sentito parlare. Eh, ho sentito questa leggenda che riguarda Webpack. Il 5% ne ha sentito parlare. Ah, il 4% ne ha sentito parlare ed è interessato. Il 5% ne ha sentito parlare e vuole evitarlo come la peste. Giustamente, comunque, c'è la libreria più usata. Il 90% delle persone ha risposto che l'ha usato nel corso del 2023. Quindi, insomma, Webpack, grande vincitore della gara delle librerie web. Al secondo posto, React. Naturalmente, come tutti sappiamo, è una libreria, non è assolutamente un framework. L'84% delle persone ha usato React. Il 65% ha detto che l'ha usato e lo vorrebbe riusare. Il 20% ha detto che, no, esperienza negativa, meglio che starne alla larga. Poi, vabbè, il 15% ha detto che ne ha sentito parlare. Non ho sentito parlare, ho questa cosa di React. Mi è parso di averlo sentito parlare. Poi, al terzo posto, Jest. Come la libreria più usata, Jest. Il 74% delle persone hanno usato Jest. Vabbè, è incluso in qualunque framework per fare i test. Quindi, vabbè, esperienza negativa solo il 15%. Guardate VIT. VIT ha il 73% di risposte. Quindi, un botto di gente l'ha usato. Quasi la totalità ha detto che lo riuserebbe. Mentre, solo il 1.3% ha detto che ha avuto questa esperienza negativa. Quindi, VIT, nonostante WebEx sia il primo posto, VIT ha il quarto posto. Ma, la soddisfazione generale è assolutamente migliore in VIT. Ma ora vediamo i framework. Oh, bello, qua vediamo anche la progressiva durante gli anni. No, non voglio coprirlo con mio faccione. Eccoci qua. Quindi, 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 chi è il vincitore? Questo qui è React, naturalmente. Il framework che è più usato nel mondo rimane React ed è addirittura in crescita rispetto al 2022. Vedete che era l'81% nel 2022. Il 2023 è l'84%, quindi cresce. Mentre, al secondo posto, al secondo posto c'è Vue.js che supera Angular. Angular era al secondo posto, in calo già l'anno scorso. Adesso è al terzo posto, sopravanzato da Vue. Non iniziate a dire, eh che schifo qui, là, no, no. Qui si sta parlando di uso. Quindi, nel mondo reale, no, nel mondo dove la gente viene pagata per fare un lavoro, le aziende preferiscono usare questo tipo di framework perché sono, naturalmente, più affidabili. Quindi React, Vue e Angular ai primi tre posti. Con un discreto distacco tra React e gli altri due. Al quarto posto, quindi scendiamo dal podio, ma in crescita c'è Svelte che è arrivato al 25%. Partiva, cioè, l'anno scorso era il 21%, quindi è arrivato al 25%, è una buona crescita per Svelte. E, subito dopo, c'è Soli dall'8%. C'è addirittura HTMX, non si può zoomare. No, vabbè, non mi interessa. C'è addirittura HTMX e poi c'è Stencil, vabbè, poca roba. Questo è come il uso, eh? Possiamo vedere anche l'awareness. Quindi, quanti lo conoscono, ne ho sentito parlare, vabbè, Angular, React al primo posto, Svelte, subito dopo, poi Preact, Solid, vabbè. L'interesse, quanto mi interessa una cosa, Svelte è al primo posto. Quindi, Svelte è framework web che suscita più interesse, eh? Il 68% delle persone è interessato a Svelte. Poi, HTMX assieme a Solid e Quick, mi pare. Quick, Solid, mi pare che siano più o meno al stesso livello, con anche HTMX che però è una new entry dell'anno scorso. Quindi, HTMX, Solid e Quick a pari merito più o meno come interesse, poco sotto il 60%. Poi abbiamo Vue.js che rimane stabile, pur essendo in calo storicamente, però rimane abbastanza stabile. React invece come interesse scende. Lit sale. Lit, vabbè, è un framework per generare web component, praticamente. Funziona perché tu usi lit per creare web component e poi dopo ti esporti web component. Non so perché sto spiegando lit, perché magari non lo conosci. Perché lit mi sembra un po' più di nicchia, no? Infatti è strano che lo trovo qua. C'è un certo interesse in salita per lit, però i web component effettivamente potrebbero essere abbastanza richiesti. Poi c'è Alpine. Alpine è un framework che deve essere veramente minimale. Capisco se sia in calo o no. No, è stabile. Poi Stencil e Angular. E guardate che Angular, tra l'altro, sale. Guardate, da quando è uscito l'interesse del 2016, l'interesse per Angular è sceso sempre, tutti gli anni. Ma dal 2021 si è invertito il trend, ha iniziato a salire l'interesse e quest'anno è di nuovo salito ed è sopra il 20%. Insomma, comunque è da tener conto che l'interesse per Angular sta aumentando. Quindi vuol dire che anche le politiche di marketing di Google stanno un po' funzionando. Poi c'è la retention che è più o meno la stessa cosa. Se sei interessato poi rimani. Se ti è piaciuto il framework con cui hai lavorato ci rimani. Solid, quick, svelte, eccetera. Più o meno la stessa cosa. Positivity, non so cosa voglio dire. Positività? Non lo so. Comunque vince React. React positive. Tanto se mettevo rank era più facile. Ma chi se ne frega. Poi c'è Frontend Frameworks Experience. React. Vabbè, l'abbiamo già visto. Il sentiment è abbastanza... Comunque un sentiment positivo per React. Poi un sentiment positivo anche per Vue. E positivo anche per Angular. Ma non sono rankati giusti però. Perché io voglio sort by positive. Ma che vuol dire? Stencil al primo posto per che cosa? Non c'è sentiment? Ah, positive all'ingiù. Ecco, se uso questo sorting, React è il framework comunque con il sentiment più positivo. Quindi di gente che probabilmente lo usa e lo ha apprezzato. Abbiamo React, poi svelte, poi Vue.js. Questo è il podio di framework che hanno più positività, più sentimento positivo nel loro utilizzo. Poi c'è Solid HTMX che qua non ho spiegato che cos'è, ma spero che lo conosciate. Insomma, è anche qua un framework abbastanza minimale che vi consente di decorare, di arricchire il vostro markup con dei tag, degli attributi, delle cose che in realtà rendono il markup stesso appunto più interattivo. Dietro le quinte gli inietta del JavaScript, ma voi più o meno non lo vedete. Insomma, è abbastanza semplice da usare e ha una bella esperienza d'uso. Quindi effettivamente il sentiment è positivo, pur essendo sotto a React, Svelte, Vue.js e Solid. Poi c'è Quick, framework dal creatore di Angular, Misco Avery. Poi c'è Preact, Angular, Lit, Alpine e Stencil. Vabbè. I punti, attenzione, il dolore principale, i pain point principali, quali pain point avete incontrato? Utilizzando i front-end frameworks. Le issue con React. Attenzione, le issue con React sono il primo pain point. Il dolore più grande dei programmatori front-end sono le issue di React. 17%. Poi, troppa scelta. Troppa scelta, troppe opzioni tra cui scegliere. 10%. Sofferenza, troppa scelta. Poi c'è eccessiva complessità. Eccessiva. Le performance, quindi, insomma, performance sono un problema. Lo state management. Mi stupisco che sia solo al quinto posto. L'avrei messo molto più in alto. Poi, vabbè, le versioni, quando cambiano le versioni, vabbè. Oh, ma ci sono anche i meta-framework, dove forse troveremo Next.js. L'uso dei meta-framework, vabbè, infatti, vedete qua. Boom! Next.js, che viene usato sempre di più. Adesso è sopra il 50%. Ha superato Gatsby e il secondo è Naxt. Tanto Gatsby adesso è terzo, perché è superato da Naxt. Mentre SvelteKit sta un po' salendo. Tutti stanno un po' salendo. Docusaurus, Eleventy. Eleventy non lo conosco. Ma, insomma, Next è il chiaro vincitore. Tra l'altro, l'Interest, vediamo un po'. Stanno tutti un po' calando di interesse. C'è meno interesse. Ma al primo posto c'è Astro. Astro è il più interessante tra i meta-framework. Superando SvelteKit, che anche questo è in calo. E Next.js, che è in calo ancora più grande. Poi c'è Remix, Docusaurus, Naxt. Tutti in calo. Vediamo un po' il sentiment. Sortiamo per quelli più positivi. Vincono Next.js, che è un sentimento positivo per la maggior parte dei respondent. E poi Astro è SvelteKit. Quindi, insomma, il podio del sentimento sui meta-framework è Next.js, Astro, SvelteKit. Poi c'è Naxt, dopo il podio. Vabbè, basta di meta-framework. Vediamo un po' il test. Quali sono i tool di test più utilizzati? Vabbè, Jest. Bastava che andassi sopra qua per evidenziarlo. L'ho scoperto adesso, mi spiace. Allora, c'è Jest in grande crescita. Aveva avuto un po' un calo l'anno scorso, invece adesso è tornato su. Mocha, che incredibilmente è risalito rispetto all'anno scorso. Mocha ha un framework veramente vecchio. Ma, vabbè, è vecchio come Jest. Però, insomma, è vetusto. Insomma, però, sta resistendo strenuamente intorno al 50%. Storybook, strano definirlo un framework di test. Storybook, però, è un framework di componenti. Sì, puoi fare visual testing, però. Lo definirei un framework di test? Non credo. Comunque, in grande salita. Cypress. Cypress, quello lo apprezzo. Mi piace. Ed è al terzo posto. Sul podio, Cypress, in crescita. Poco sotto il 50%. E, praticamente, allo stesso livello di Puppet... No, non è vero. È molto sopra Puppetier. No, è allo stesso livello di qualcun altro. Praticamente allo stesso livello di Mocha. Saranno che si scambiano... Gli esuli di Mocha arrivano su Cypress. Vabbè. Playwright, invece, è in notevole crescita. È al 30%. Era al 15% l'anno scorso. Poi c'è WebDriver.io, sempre stabile. V-Test. V-Test è in grande crescita, madonna. Dal 14 al 34. Selenium, non capisco perché sia in crescita. Selenium, spero che muoia e lo abbandoniate, gli trate anche fuoco. Test Caffè, vabbè, marginale. Mocha, vabbè, tutti marginali. Oh, guardiamo un po' Mobile Desktop. Quali tool Mobile Desktop sono usati? Electron vince. Electron purtroppo vince, perché anche qua è l'esperienza d'uso, la developer experience di Electron. Insomma, invece, React Native, ancora in leggera salita. Perché passiamo dal 35 al 37%, come uso, stiamo parlando qua dell'uso. Quindi è piuttosto usato, React Native è in crescita. Poi c'è Native Apps, che invece ha avuto un grosso calo negli anni, adesso è un po' in salita. Cordova leggermente in discesa, Ionic leggermente in risalita, ma insomma, globalmente, non mi pare che siamo sopra il 25%. Capacitor rimane sempre lì. Vabbè, Expo lo unirei a React Native, ma so, più o meno. Più o meno il vincitore direi che è React Native. Come uso, come interesse, anche qua, sta calando un po' per tutti, sta calando per Electron, sta calando per React Native. Sta invece salendo, ma sta un po' salendo, ma è un po' stabile per Tauri. Cioè, Tauri è arrivato e boom, 80% di interesse, adesso più o meno lo sta mantenendo. Gli altri stanno tutti un po' calando. Cordova, vedete che è in inesorabile discesa. Tool monorepo da utilizzare, se siete lì, insomma, alla ricerca di tool per monorepo e volete un po' sondare il mercato per capire quali sono i più usati, beh, sappiate che il più usato è questo qui, che è PMPM. PMPM, tool più usato per gestire i monorepo, seguito da NPM Workspaces e questo rosso, che penso sia Yarn Workspaces. Quindi NPM Workspaces e Yarn Workspaces, più o meno stesso livello. Mi aspettavo che Yarn Workspaces forse sia un pochino sopra, ma effettivamente c'è l'Erna qua, che credo che più o meno compensi, vabbè. NX invece, beh, in leggera salita, ma un pochino sotto gli altri NX. Vediamo un po' il sentiment positivo. C'è la PMPM, poi NPM Workspaces e Turbo Repo. Turbo Repo è quello di NextDS, no? Esatto, quello qua, quello di Vercel, sì, sì, sì. Vabbè, insomma, podio, PMPM, NPM Workspaces, Turbo Repo. Poi, subito giù dal podio, c'è NX. C'è Other Tools, che cosa dice? Librerie, ah, librerie, vediamo l'uso di librerie in generale, fuori da questi framework, da questi tool. L'Odash vince ancora, arriva al 50%. L'Odash, ragazzi, è una roba veramente triste, eh. Che sia ancora qua. Poi è vecchia l'Odash, madonna, poi tutto pieno di, è bloated, è pieno di roba. Basta usare l'Odash. Poi, perché usate l'Odash? Potete fare le stesse cose che fa l'Odash, scrivendo due righe di codice, madonna. C'è per forza bisogno di... C'è Copilot, poi, fate scrivere a Copilot le cose, se non avete voglia, invece di usare l'Odash. Date FNS al secondo posto. Sono contento, perché devo dire che Moment, che comunque resiste subito giù dal podio, al quarto posto, però Date FNS praticamente è un Moment come dovrebbe essere Moment, cioè una libreria molto più piccola e che fa soltanto una cosa, cioè gestisce le date. Invece Moment gestisce, sì, gestisce le date, ma poi fa milioni di robe, operazioni tra date, formati diversi. Ma vabbè, penso sia la libreria più grossa del... Penso che sia il 50% del totale dei pacchetti NPM, sia Moment. Una roba gigantesca. E comunque Zod ha il terzo posto. Zod è una libreria per fare valiazioni di tipi, no? Quando comunicate con un API e dovete validare i tipi che arrivano dall'API, da un JSON, per esempio, che ovviamente non ha i tipi dentro, dovete validare i tipi e Zod serve per fare questo. Terzo posto, quindi, nonostante sia una roba abbastanza nuova, fresca, e anche un pattern abbastanza fresco, terzo posto, sono contento. Insomma, sono contento di Date FNS e Zod, ma l'Odash, ragazzi, buttatelo. DayJS, anche qua, alternativa Moment, per farvi ancora capire quanto Moment sia, è da scartare. RXJS rimane, insomma, al 24%, nonostante sia un po' ormai vecchiotto. jQuery. jQuery non morirà mai, credo che nel 2040, quando qua non parleremo neanche più di React e Angular, perché saranno ampiamente superati da framework quantistici, invece jQuery rimarrà e si terrà la sua fetta di popolarità nel web. Adottato posto, Youp. Youp, boh, è una roba che serve per fare form, validare campi, validare form, insomma, una roba che potete usare nei framework che non hanno una libreria per gestire i form, un po' tipo React, no? Usate Youp, insomma, a me ha fatto, quando l'ho usato, mi ha fatto abbastanza cagà, però capisco che abbia la sua utilità. CoreJS, scontato che la gente usi CoreJS quando deve fare, quando deve prendersi delle web API che magari non ci sono nei browser. Oh, a qualcuno interesseranno anche i tool grafici per fare animazioni 3D, eccetera. Sappiate che il tool più utilizzato per fare grafica 3D con JavaScript è 3JS, dopodiché c'è D3, poi c'è Framer Motion e poi tutti gli altri a seguire. Quindi 3JS penso che si confermi, insomma, il tool più utilizzato in generale. Invece come framework di backend, quello di gran lunga, ma di gran lunga più utilizzato, è Express, che vince su Nest e poi Fastify. Express, diciamo che non è molto amato dalla community, soprattutto intorno a Node, però è quello che tutti usano perché è quello più documentato, che tutti trovano nei tutorial, nelle guide, insomma. Si fanno sempre tutorial con Express e quindi la gente usa Express, naturalmente. Nest e Fastify sono più moderni. Tra l'altro, secondo me è un po' un errore qua, perché Nest, certo, è un framework di backend, ma è un meta framework, cioè è qualcosa che è messa sopra a Express o a Fastify. Tra l'altro si può scegliere se usarlo sopra Express o sopra Fastify. Quindi sì, ti fai un framework di backend, ma è un qualcosa in più rispetto a Express e Fastify. Comunque, vabbè, messo insieme Express e Fastify, sta al secondo posto. Se togliamo Nest, comunque la guerra e la lotta tra Express e Fastify ha un chiaro vincitore, che è proprio Express. Poi c'è Strapia al quarto posto, Coa, vabbè, tutti gli altri un po' marginali. Runtime JavaScript, domanda strana. Comunque Node.js vince, secondo posto, il browser, i browser. Ban, invece, sta arrivando, sta prendendo una fetta importante, perché 22% comunque è una fetta di mercato importante, certo, limitata alle risposte di questo survey, però, insomma, 22% è abbastanza grosso. I runtime serverless per JavaScript vince AWS Lambda, se vi interessa, poi Vercel Edge e Cloud Fair Workers, va bene. I linguaggi non JavaScript più utilizzati dai respondent, da chi ha risposto a questo, quindi dai frontenders, da chi ha risposto a questo sondaggio, i linguaggi più utilizzati sono Python al primo posto, 44%, e PHP al secondo posto. To, a chi continua a dire che PHP è morto, è ancora qua che vive e lotta insieme a noi, ma Python vince, naturalmente, per la questione dell'AI. Tutti devono fare le librerie AI in Python perché si è iniziato così e quindi perché non continuare così, mi sembra un'ottima scelta. No, non credo, però continuiamo a usare Python. Java al terzo posto, se vi piace così. Vi piace Java al terzo posto? Pigliatevi Java al terzo posto. Poi giù dal podio abbiamo C Sharp, Bash, per qualche motivo, e Go, Rust, va bene, poi gli altri arrancano. Domanda sull'AI tool, quali sono gli AI tool più utilizzati? C'è GPT e Copilot? Beh, non me lo sarei mai aspettato. Hosting Services, il più usato è AWS, poi Vercel e poi GitHub Pages. Basta, le altre domande sono abbastanza stupide. Per cosa usi JavaScript, bla bla bla. Le risorse, i corsi a pagamento più usati sono Udemy al quasi 30%, poi Frontend Masters, Pluralsight, YouTube al quarto posto. Ovviamente qua, corsi gratuiti su YouTube, vanno anche qua per la maggiore. Poi c'è Zero to Mastery, a cui ve li cito perché magari potrebbero interessarvi andare a esplorare qualche corso così. Plazzi, Egghead, Westboss, Vue Mastery, Fireship, al tessimo posto. E poi UdonnoJS e tutti gli altri. I podcast più usati? Qui dovrebbe esserci Buongiorno a l'Ai del primo posto, ma se sono sbagliati probabilmente quindi non hanno... c'è un certo errore nel conteggio, quindi io direi di chiedere un riconteggio perché secondo me qua le cose sono sbagliate, ma togliendo quindi quello che mi aspetta di diritto come primo posto, il più ascoltato è Syntax. Naturalmente qua parliamo di podcast in lingua inglese, quindi Syntax è di gran lunga il più ascoltato. Poi c'è JS Party, Web Standards, The Changelog e gli altri. Io in realtà ascolto questo, The Changelog è il quarto posto, ma sono una minoranza. Il più ascoltato è di gran lunga Syntax, che non conoscevo. Ora che lo conosco, continuerò... no, non è vero, andrò a vedere di che si parla. Ho i creatori di video, anche qua so che c'è stato un errore nei conteggi. Primo sarei io, ma a secondo posto. Fireship è il video creator più seguito. Poi c'è Primagen, Theo, WebDev Simplified e tutti gli altri. Vi vediamo se c'è qualche nome strano. No, è Ryan Carniato, comunque sedicesimo posto. Il creatore di Solid. Fa sempre piacere. Le persone che si seguono, vabbè, nella JavaScript community, Midudev è il primo posto, non lo conosco. Poi c'è Theo, poi c'è Rich Harris, creatore di Svelte. C'è Ken C. Dodds, c'è Evan Yu, creatore di Vue.js. Fireship, Dan Abramov, un grande contributor di React. E finiamo con gli award, i premi. Quindi vediamo chi vince in tutte le categorie dove ci sono state le nomination. Quindi la tecnologia più adottata, che è un premio dato alla tecnologia che ha avuto il progresso più grande tra un anno e l'altro nell'adozione su web. Vediamo un po' chi ha vinto. VIT, ale, VIT è la libreria che è usata di più, cioè che ha la crescita più alta, con un più 25% di anno su anno, VIT. Poi la retention maggiore, quindi la tecnologia con la più alta percentuale di utenti che ci ritornano a usarla, credo volentieri. Vediamo un po' chi ha vinto. Sempre VIT, vabbè, banalmente rimane VIT. Il 98% della gente che usa VIT vuole continuare a usare VIT. Highest Interest, quindi la tecnologia di cui gli sviluppatori sono più interessati, gli sviluppatori front-end, spero non sia di nuovo VIT. E invece è VTest, che è sempre VIT, ma è VTest che è appunto il testing framework per VIT. Quindi insomma siamo comunque sempre tonno a VIT. Most of Writings, che è gli oggetti con più risposte scritte, non so cosa voglio dire, ha vinto ban, menzionato 353 volte. Quindi nelle domande con risposta aperta, insomma, ban è stato quello più citato. La libreria più commentata, quindi la libreria che ha ricevuto più commenti, è React, più commenti. Di nuovo la libreria più commentata, con 119 commenti. La libreria più amata, quindi la libreria, la tecnologia, con la più alta proporzione di opinioni positive, è VIT. Di nuovo, quindi direi che VIT grandemente vincitore quest'anno del State of Jazz 2023, e quindi se vado alle conclusioni, non ve le leggerò io, le leggerete voi, conclusioni scritte da Cassidy Williams, grande developer advocate, divulgatrice e contributo all'open source, eccetera, che ha scritto queste conclusioni, assieme anche a Teo, anche Teo Brownie ha scritto queste conclusioni, e insomma le trovate su 2023.stateofjazz.com, e andate su conclusion, e poi potete anche andare a esplorare tutto il resto dei sondaggi, e vedere un po' le risposte, con i grafici interattivi che ci sono. Tra l'altro c'è anche una traduzione in italiano, quindi vi ricordo insomma che questo è un sondaggio condotto da Sasha Grafe, non fate i birichini, vi ho visto, tra l'altro Sasha Grafe è pure un uomo, è francese, ecco vi spengo subito i bollenti spiriti, perché Sasha Grafe è un uomo, penso che non si pronunci così, tra l'altro. Quindi Sasha Grafe e Eric Burel, sono entrambi francesi, però il Burel vive in Giappone, ma l'hai detto a lui, vive a Kyoto, e quindi sono loro che hanno creato questo DevoGraphics, e hanno messo insieme questo State of JS, CSS, HTML, insomma ogni anno, ormai da un po' di anni, vediamo questo State of. E basta, volevo fare un po', volevo leggere un po' come va, quindi VIT grande vincitore, tutti gli altri li avete visti, e questo era lo State of Jet 2023, vabbè, passiamo ad altro.